Alcheocaccia, caccia ai tesori di Sardegna, un'iniziativa simpatica di Sardegna Turistica, associazione che promuove e valorizza il patrimonio storico-archeologico della Sardegna. Alcheocaccia ha l'obiettivo di portare la gente e gli appassionati nei siti gestiti e nei musei, un turismo di prossimità che risolve in parte un problema, che è quello invernale, di portare la gente in questi luoghi. Un turismo di prossimità utile, molto importante per i siti gestiti e i musei. È molto facile partecipare all'archeocaccia, iscrivetevi, scaricate il pdf dove c'è il journal, che è questo qui, dove all'interno ci sono tutte le informazioni e la mappa. Visitate i posti che sono indicati nella mappa, che sono i siti dei musei che hanno aderito all'iniziativa e quando voi li visiterete vi sarà dato un foglio contenente dei puzzle. Risolvete questi puzzle che sono dei quesiti di natura storico-culturale sarda. Ci sono dei bellissimi premi in omaggio. Voglio anche ringraziare i siti che hanno aderito, i siti musei, li voglio ringraziare e ringrazio tutte le persone che si stanno iscrivendo e siete davvero in tante che ogni giorno vi iscrivete. Siamo in uno dei musei che hanno aderito all'iniziativa Archeocaccia e siamo al Geomuseo Monte Arci a Masullas. Sono con Moreno che lavora qui, una delle guide che quando venite qua vi accoglie. Ti chiedo cosa ne pensi di questa nostra iniziativa riguardo l'Archeocaccia. L'Archeocaccia per noi è stato importante anche partecipare, è stato un piacere per partecipare a questa iniziativa proprio perché come hai detto tu è un'iniziativa abbastanza importante che ci permette di far conoscere il Geomuseo che tratta comunque anche argomenti geologici ad un pubblico che magari non è solitamente il nostro e ci permette anche di entrare in una sorta di combinazione con gli altri musei di tutta la regione e vi diciamo che per noi è un qualcosa di importante essere inseriti in questa iniziativa e ti ringraziamo anche per averci coinvolto. Esatto, e ti ringraziamo anche per averci coinvolto. Ti ringrazio a voi, venite a visitare questo magnifico luogo, questo paese e questo museo. Dove? Tra l'altro non c'è solo qui il Geomuseo ma c'è anche il Museo Naturalistico che è qui a pochi metri. Sì, abbiamo a Masullas e abbiamo anche un terzo museo che è il Museo Il Cavaliere delle Colline e tratta sempre la storia geologica, la storia aristocratica della Sardegna, diciamo dei giudicati fino ai giorni nostri. Benissimo, io ripeto, ringrazio tutti i siti gestiti e i musei che hanno diritto all'iniziativa, questa prima edizione di Archeocaccia, mi dispiace per gli altri musei che non sono potuti rientrare ma per motivi di gestione di tempi non è stato possibile ma sicuramente ci sarà l'occasione alla prossima edizione. Io vi ringrazio qui da Masullas e dal Geomuseo e ci vediamo alla prossima nei prossimi siti e musei. Ciao!